Musica Un saluto a tutti gli amici del mio canale YouTube io sono Stefano Adami e quest'oggi partiremo per una nuova avventura si chiamerà Pillole di Mondo Eco in questa piccola miniserie vi farò vedere tantissime piccole malizie e tantissime cose che mi avete richiesto su Facebook su come settare al meglio e come lavorare al meglio con i vostri strumenti Lorenz e Simrad